La proposta più interessante del marchio Dacia è sicuramente la Loggi, prima monovolume della casa con 5 o 7 posti a sedere realizzata sulla base della Duster, ambiente interno piuttosto spartano come ci si aspetta dai prodotti del marchio rumeno, ma tanto spazio e versatilità a bordo grazie al sistema modulare dei sedili, gamma motori piuttosto ampia e listino che parte in basso a 9.900 euro.